Ciao a tutti e bentornati in questa playlist prove invalsi di terza media. Continuiamo sempre con la prova invalsi del 2019, in particolare riprendiamo dalla domanda 18. Ieri, se avete visto il video, avevamo finito con la 17 e quindi oggi ripartiamo. Leggiamo attentamente la domanda. Filippo, per il suo bassotto, compra sempre scatole di cibo per cani da 500 grammi. Quindi, memorizziamo subito l'informazione, una scatola contiene 500 grammi. Ogni giorno il bassotto mangia 200 grammi di cibo. Filippo conserva ogni scatola aperta finché non l'ha completamente svuotata. Filippo oggi non ha più scatole di cibo per cani e quindi deve comprarle. Quante scatole almeno dovrà comprare se vuole che gli bastino per una settimana? Vediamo come ragionare insieme. Sappiamo che una scatola contiene 500 grammi e sappiamo che ogni giorno il bassotto mangia 200 grammi. Quindi, se vogliamo calcolare quanti grammi di cibo mangia il bassotto in 7 giorni, basterà fare il calcolo. 7 per 200 grammi. In questo modo abbiamo 1400 grammi. Quindi sappiamo che per una settimana il bassotto mangia in totale 1400 grammi. Quante scatole dobbiamo comprare? Io so che una scatola contiene 500 grammi. Quindi devo fare 1400 grammi diviso 500 grammi per trovare il numero di scatole. Se lo fate in colonna vedete che il risultato è 2,8. Chiaramente Filippo non è che va al supermercato e può comprare 2 scatolette, virgola 8. Le scatole sono un numero intero. 2, 3, 4. Quindi, minimo dovrà comprare 3 scatole. Perché 2,8 è quasi 3. La risposta giusta è la numero 1. Prossima domanda. Per la manutenzione del sistema di riscaldamento di un condominio, un tecnico richiede un compenso fisso di 60 euro più 40 per ogni ora di lavoro. Quale delle seguenti formule consente di calcolare il costo complessivo, S, in euro, al variare della durata in ore del lavoro svolto? Per rispondere a questa domanda facciamo un esempio numerico. Supponiamo che il tecnico lavora per un'ora. Questo vuol dire che il suo compenso sarà 60 euro fisso più 40 per 1. Se lavora due ore, il suo compenso sarà 60 euro più 40 per 2. E così via. Se al posto di 1, 2, 3 ore mettiamo T, come indicato dalla domanda, noi sappiamo che la formula che consente di calcolare il compenso è proprio 60 più 40T. La risposta giusta, quindi, è la numero 2. Andiamo avanti con la domanda numero 20. Per una ditta, il costo di ogni fotocopia è un centesimo di euro. La ditta, inoltre, paga un canone mensile fisso di 50 euro per il noleggio della fotocopiatrice. La formula che descrive il costo mensile, C, in euro, in funzione del numero X di fotocopie è... Ok. Proprio come la domanda precedente, anche qui facciamo un esempio numerico. Io so che il costo di ogni fotocopia è un centesimo e al mese pago un fisso di 50 euro. Quindi, per un mese, la ditta paga 50 euro più... Se io faccio una sola fotocopia, sarà 1, un centesimo, per 1. Se invece faccio 10 fotocopie, la ditta quel mese pagherà 50 più 10 fotocopie per 1. Se ne faccio 100, 50 più 100 fotocopie per 1. Se chiamo con X il numero di fotocopie, ecco che questa formula diventa 50 più un centesimo per X. Un centesimo lo posso scrivere come 0,01 perché centesimo, come dice la parola, è 100. Questo vuol dire che devo spostare la virgola di due posti e quindi 1 diventa 0,01. La risposta corretta è la numero 1. Prossima domanda. In un test sono assegnati due punti per ogni risposta corretta. Meno un punto per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta mancante. Il test ha 30 domande. Qual è la formula seguente che permette di calcolare il punteggio totalizzato nel test? C indica il numero delle risposte corrette. E il numero delle risposte errate. M il numero delle risposte mancanti. Facciamo uno schemino pratico. Io so che C indica il numero delle risposte corrette e so anche che per ogni risposta corretta attribuisco due punti. Poi so che E è il numero delle risposte errate e per ogni risposta errata attribuisco meno un punto. Poi so che M è il numero delle risposte mancanti e per ogni risposta mancante attribuisco 0 punti. Per calcolare il punteggio, qual è il mio calcolo? Due punti per ogni risposta corretta più meno un punto per ogni risposta errata più 0 punti per ogni risposta mancata. La formula che esprime questo calcolo è 2 per C più meno 1 per E più 0 per M. La risposta corretta è questa. Ultima domanda di oggi. Concludiamo con un bellissimo trapezio isoscele. So che la base maggiore è doppia della minore. Scrivi una formula che esprima il perimetro P del trapezio in funzione di B. Come sempre facciamo uno schemino. Io so per ipotesi che la base minore vale B e che la base maggiore è il doppio della base minore, quindi vale 2B. Poi so che il trapezio è isoscele. Questo vuol dire che i due lati obliqui sono uguali e quindi anche questo segmento vale 5. Ora che conosco tutti i lati posso calcolare il perimetro che per definizione si trova facendo la somma di tutti i lati. Sommiamo i monomi simili. 5 più 5, 10. B più 2B, 3B. La risposta corretta è il perimetro uguale 10 più 3B. Ok, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo pure con un amico se pensate che gli possa essere utile. Ci vediamo domani!